Una notizia curiosa per le neomamme, vi farà piacere sapere che tra i trichechi del Pacifico e i pipistrelli dello Sri Lanka le femmine preferiscono tenere i neonati a sinistra, proprio come le mamme umane mistero destro, processi cognitivi, insomma, troppa roba vi basti sapere che alla fine noi, come loro, siamo dei mammiferi Detto questo, oggi sono nel mood Just Like Animals e voi in che mood siete? Ora torniamo alla grande musica con Animals Day Morning 5 Buona mood a tutti, ciao! I don't know